A fine dicembre, in una situazione ancora di incertezza legata alla pandemia di Covid, con grande senso di responsabilità, la Giunta di Governo e l'Assemblea regionale siciliana hanno approvato una norma per la proroga di due mesi dei contratti del personale precario amministrativo e tecnico. Ad oggi invece, alla luce della nuova valutazione delle emergenze e della normativa nazionale, non essendoci più esigenze particolari di gestione, risulta impossibile, tanto per l'esecutivo che per il Parlamento regionali, nell'immediatezza intervenire con nuove proroghe. E' questo il pensiero dell'Assessore della Salute della Regione Sicilia, Giovanna Volo, sulla situazione dei lavoratori assunti durante il periodo della pandemia. Resta ferma, ha poi continuato l'intenzione del Governo Schifani e dell'ARS di continuare a valutare soluzioni che in futuro possano essere sostenibili e riconoscere a questo personale l'impegno svolto nel momento di crisi. Il personale sanitario e parasanitario, invece, come annunciato dal Presidente della Regione Schifani, può essere implementato nel sistema sanitario regionale, lì dove risultino croniche carenze di organico. Anche su questo abbiamo aperto il confronto con gli enti e le aziende per arrivare a una soluzione al più presto. Ha concluso l'Assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, a margine dell'incontro avuto con le organizzazioni sindacali che nel pomeriggio hanno organizzato un sitini di protesta dei precari Covid in Piazza Indipendenza a Palermo.